Bentornati amici, qua nel terrazzo delle pipie di Mestail, stamattina c'è un bel sole, sono alle 8 e mezza, sono in maniche corte a novembre, quindi mi sembrava giusto farvi il video da qua. Prima di iniziare a fumare volevo parlare di una riflessione che ho fatto vedendo un video di Luca Piemontese, mi è capitato il suo video sui 5 tabacchi in busta, la classifica ipotizzando una futura apocalisse dei tabacchi che rimangono solo quelli in busta. Allora io voglio essere onesto, la mia riflessione è il fatto che secondo me Luca Piemontese lì è da diverso tempo che è iniziata, probabilmente alcuni non se ne rendono conto perché fanno parte di quell'elite fortunata che riesce a procurarsi i tabacchi all'estero oppure perché anche procurandosi in Italia fa parte sempre di quella piccola elite che hanno la fortuna di avere dei tabaccai forniti vicino, ma per la stragrande maggioranza secondo me dei fumatori di pipa l'apocalisse è iniziato al tempo perché in tanti tabaccai più che i tabacchi in busta non trovi e sono poi sempre quelli, tra l'altro non c'è neanche tutta questa gran varietà nonostante ne esistano una miriade ed in più per tanti anche a livello economico non è possibile andare spesso al di fuori del tabacco in busta perché qua in Italia i tabacchintini negli ultimi due anni hanno avuto veramente un decollo dei prezzi enorme è vero, il fumatore di pipa magari una volta era medio borghese quindi poteva permettersi determinate cose oggi mi sembra che il fumatore di pipa sia sceso anche a livello umano e quindi un po' tutti si possono permettere di fumare la pipa è una passione che ha avvolto molti, non solo il cento medio e quindi credo che per la stragrande maggioranza l'apocalisse sia già avvenuta e già tanti abbiano la loro classifica di tabacchi in busta perché li amano, perché alla fine quando ti devi adattare e non puoi sempre solo fare il fighetto e quindi ti devi adattare a quel punto lì inizi ad apprezzare quello che hai e quello che hai sono i tabacchi in busta quindi vorrei che non se ne parlasse più come è avvenuta l'apocalisse scegliamo quelli perché c'è rimasto quello poveracci no, i tabacchi in busta hanno una loro dignità io ad esempio ho scoperto il golf da poco e mi piace un casino e non lo cambierei con diversi tabacchi in latta se devo essere onesto ma non per una questione di prezzo ma proprio di sapore quindi sinceramente rendiamoci conto che i tabacchi in busta se uno è un appassionato e non vuol solo fare il filetto i tabacchi in busta hanno una loro dignità, sono notevoli e sono apprezzabili tanto quanto i tabacchi in latta anzi se poi guardiamo le nostre tasche probabilmente qualità prezzo ce ne sono tanti qualità prezzo che superano anche quelli in latta quindi sinceramente credo che bisognerebbe anche da parte nostra dare un po' più di dignità ai tabacchi in busta perché la meritano poi lo so anch'io eh avendo le possibilità soprattutto per chi come me ama le M in busta poco c'è, io ho il vintage all'atacchiamolo non lo riesco a fumare, non mi piace l'ho sempre detto, è stato uno dei primi tabacchi che ho provato ed è stato uno dei pochi che proprio non riesco a fumare quindi mi dispiace ma purtroppo per le M devo andare fuori dai tabacchi in busta e questo mi dispiace però sinceramente c'è della dignità dovremmo essere un po' più coraggiosi da provare anche noi ad andare molto di più fuori dalla nostra comfort zone e provare tanti tabacchi perché comunque c'è tutta la sere Workwood Reef, Seven Seeds, tutti McBaren, tutti gli Anforato cioè c'è una marea no? però ce ne tanti che anch'io non ho mai fumato cioè ma non perché mi è mancato il tempo perché non li trovassi ma semplicemente perché anch'io ho avuto paura di farlo ho avuto di tentare di uscire dalla mia comfort zone e invece secondo me è proprio quello che dovremmo fare noi come youtuber cercare di portare un maggiore bucchè di esperienze e non per forza sempre dover andare all'estero cioè poi ognuno è libero di fare quel cazzo che vuole però anche per la classifica dei 5 tabacchi ho visto chi ha dovuto nominare dei tabacchi in busta all'estero ma con tutti quelli che cazzo abbiamo in Italia c'è bisogno di tirare fuori sempre i tabacchi esteri cioè è un po' come la fola del calcio no? cioè andava bene quando arrivavano i Maradona quando arrivavano gli Zidane con la gente lì ma quando ti arriva un tabacco normale tanto vale che rimaniamo in Italia no? cioè poi per carità per il dovere di cronaca va bene tutto e ognuno è libero di fare quel cazzo che vuole ma secondo me almeno per questi 5 tabacchi qua sarebbe stato più carino rimanere in Italia questa è la mia umile opinione e spero che nessuno si offenda perché vedo che siamo tutti un po' per malose qua sul tubo ma bisognerebbe iniziare a prendersi anche un po' meno sul serio ecco va bene io vi saluto tutti è stato un piacere ci rivedremo la prossima volta ormai sul terrazzo secondo me è l'ultima però chi lo sa alla prossima amici